Tutti i centri e ogni essere di qualunque regno ha un centro, fanno parte di un unico grande centro che racchiude il senso della vita sul pianeta. Il primo ciclo è stato per i suoi sette principi e adesso passiamo a un ciclo di sette valori. Che differenza c'è? Ma tra principi, valori e qualità è molto arbitraria la collocazione perché qualcosa che definiamo un principio possiamo anche ritrovarlo come qualità. Però diciamo che quello che cambia dal circuito dei principi ai valori alle qualità è proprio l'ampiezza della prospettiva da cui si guarda. E per cui passando dai principi ai valori, ecco il valore è qualcosa che entra già molto più vicino alla materia e poi dallo spirito alla materia. I principi sono più vicini allo spirito, i valori entrano di più nella materia e le qualità poi vedremo nel terzo ciclo ancora di più. E per cui diventano aspetti che sono sempre più definiti, più precisi. Per valore, perché noi il termine valore è un termine che usiamo molto nel nostro linguaggio, si intende ciò che vale, è molto semplice. Tutto ciò che per noi vale è un nostro valore, per cui per una persona, per un gruppo ciò che vale è un valore. E questa sera partiamo dal primo, dal primo di questi sette valori, se volete ve li nomino anche tutti così li inquadriamo un po', abbiamo un'idea di cosa si tratta. Il primo, che è quello che tratteremo oggi, è la focalizzazione e poi vedremo cosa intendiamo. Il secondo, la fratellanza e cooperazione, le abbiamo messe insieme. Il terzo, il pensiero e la conoscenza. Il quarto, la sintesi. Il quinto, il lavoro. Il sesto, la verità. E il settimo, l'autonomia. Questi sono proprio dei valori a cui noi come gruppo cerchiamo di dare attenzione, di dare importanza. Che non vuol dire che siamo perfetti nell'esercitarli, però diciamo che sono parte del nostro impegno. Allora, la focalizzazione. Noi in genere abbiamo sentito parlare di focalizzazione sempre rispetto a certe funzioni. Il focalizzatore del casale, il focalizzatore del gruppo. Invece dobbiamo vedere questo valore della focalizzazione come qualcosa di più generale, che non è legato solo a un ruolo che svolgiamo, ma è proprio un atteggiamento interno. Salta subito agli occhi che la radice della parola focalizzazione è fuoco. Per cui focalizzare vuol dire mettere a fuoco, individuare il punto di fuoco in ogni cosa. Per chi è attratto dal mistero del fuoco, questa parola probabilmente anche senza comprenderla esercita un significato, un'attrazione, evoca un significato sottile, esercita un'attrazione sottile. Mentre può risultare astrusa per chi non ha dimestichezza con l'elemento del fuoco. E perciò dobbiamo partire dal presupposto che ogni essere, tutti gli esseri di tutti i regni esistono a partire da un nucleo di fuoco. Ed è quel nucleo di fuoco che dà vita e impulso agli atomi di quella che diventerà poi una forma, una forma visibile. Perché quel punto invisibile di fuoco è il vero centro di quell'essere e dell'essere. Ed è anche quello che racchiude il senso profondo dell'esistenza. Per cui se andiamo a cercare dove è racchiuso il senso della nostra vita, la ragione per cui siamo nati, si trova proprio in quel punto di fuoco centrale. E che è proprio il punto da cui è partito l'impulso che ci ha portato nella manifestazione. Perciò fuoco, punto focale e centro diventano dei sinonimi. Possiamo usarli indifferentemente come parole. Cioè modi diversi di esprimere la stessa realtà sottile. Il punto focale o centro è la sede appunto della finalità occulta di tutto quello che esiste. E per cui vedete che questo concetto di focalizzazione segna il passaggio dalla visione di un universo in cui gli esseri esistono un po' a caso e si muovono a caso, sparpagliati qua e là, a invece la visione di un universo ordinato in base alla finalità, al proposito, alla ragione di esistere di ogni essere. E per cui questo concetto di focalizzazione crea ordine tra tutte le cose. E tutti i centri e ogni essere di qualunque regno ha un centro, fanno parte di un unico grande centro che racchiude il senso della vita sul pianeta. Noi lo chiamiamo proposito perché è questo centro unitario che è composto da tutti i centri collegati. Tant'è che lo si chiama anche il centro dei centri. E che coincide col grande mistero che tutto muove, perché chiaramente il punto focale, il centro, racchiude la ragione per cui un essere esiste. Però quella ragione profonda la si scopre piano piano, a pezzi, e per cui fino a che non la si scopre, e questo è un punto molto avanzato nel processo di crescita, è un grande mistero. Noi conviviamo dentro di noi col mistero del nostro punto focale, di chi siamo nel profondo. Ecco per cui questo punto focale costituisce sempre un centro. È un centro che unifica vari elementi, un centro che tende sempre a un obiettivo, un centro che raccoglie e ridistribuisce. Se noi pensiamo le tante funzioni che un centro ha, ci accorgiamo dell'importanza. E comunque il centro è sempre il punto d'origine di qualunque processo costruttivo e ancora di più di qualunque processo creativo. Se non ci fosse un centro, tutto quello che esiste sarebbe solo un coacervo di elementi disconnessi, senza nessuna efficacia. Per cui capiamo com'è importante questo termine focalizzazione. Tra l'altro è un termine anche abbastanza nuovo rispetto ad altri concetti. Ma perché? Perché è molto legato all'energia della volontà. E l'energia della volontà, delle tre grandi energie, luce, amore e volontà, è l'ultima a manifestarsi, sarà l'ultima che si manifesterà sul pianeta. Per cui è conosciuta da noi psicosintetisti soprattutto, ma è ancora in gran parte misterica. E la focalizzazione è anche fare con questa energia, per quello che magari abbiamo meno dimestichezza con questo concetto che con altri. Un'altra volta abbiamo parlato del servizio al piano, abbiamo parlato del servizio, abbiamo parlato dell'unione, che sono tutti concetti più familiari. Per cui è necessario un centro per tutto, un centro nella nostra psiche, ce lo fa vedere molto bene l'ovoide della psicosintesi, un centro nella cellula, un centro nel nostro corpo, il centro di un'impresa. e spesso mi capita di fare un paragone anche con la casa, perché anche la nostra casa deve avere un centro. Noi dobbiamo stabilire qual è il centro della nostra casa, intorno a cui si distribuiscono tutti gli altri spazi. Ecco, il centro è anche il punto di partenza per ogni processo di sintesi. Si dice in psicosintesi che ogni sintesi parte da un centro unificatore, per cui è il punto di partenza per ogni sintesi e anche il punto d'arrivo di ogni sintesi, quando elementi diversi trovano il loro compimento in un punto focale di vibrazione più elevata di quella dei singoli componenti presenti nella fase iniziale. Per cui la focalizzazione come valore comporta l'acquisizione di una sensibilità verso il centro e verso il punto focale. E questo innanzitutto è un atteggiamento da imparare a tenere con noi stessi, che consiste nella ricerca del contatto col proprio centro e con il punto focale del proprio essere. Da qui si estende poi al contatto con il centro o punto focale degli esseri che ci circondano, che noi non riusciamo a contattare come centri fino a che non entriamo in contatto con il nostro centro, per cui il contatto con il nostro centro ci apre a cogliere gli altri centri e a coglierne addirittura anche il proposito piano piano. Intuire qual è la finalità della loro vita. Il frutto di questa ricerca del centro è l'essenzialità, che è anche il riconoscimento di quello che è essenziale rispetto a quello che non lo è, è il sapere andare al nocciolo delle cose e anche la profondità. Ma ne risulta anche potere, perché dal centro noi possiamo governare sia noi stessi che la nostra vita, per cui il potere per essere espresso ha sempre bisogno di un centro. Senza centro non c'è potere. Ecco, diciamo anche che quando siamo molto attenti al nostro centro c'è anche un rischio, che è quello di diventare un po' egocentrici. E per quello che dare attenzione al centro dentro gli altri, dentro gli altri esseri, ci aiuta a difendersi dal nostro rischio di egocentrismo. Il centro, una volta, questo punto focale, una volta individuato, diventa un centro di forza, di risorse, di energia, diventa un centro di potere magnetico, che ci attira un potere magnetico. E per cui, vedete, in fondo il nostro servizio oggi vuole essere quello di seminare la sensibilità al fuoco centrale che è in ogni essere, imparare i segreti del punto focale e imparare a dedicarci ad accendere fuochi sia dentro di noi che intorno a noi. Questo è il senso della focalizzazione. Poi abbiamo anche la focalizzazione di gruppo, che è imparare a svolgere questo ruolo, ad accendere il fuoco del proposito dentro un gruppo. Ma possiamo anche restare proprio così, in un campo più vasto, in cui ognuno di noi, indipendentemente che abbia un ruolo di focalizzatore di gruppo, ha la possibilità di imparare ad accendere un fuoco dentro di sé e intorno a sé. Per cui noi comprendiamo quanto è importante in un mondo in cui tutto si sta diluendo, tutto si sta sconnettendo, sparpagliando, quanto è importante ritornare a quel senso del fuoco centrale di ogni cosa e coltivarla per noi e per gli altri. Ecco, questo è il senso della focalizzazione. e appunto penso che il compito che abbiamo davanti oggi è proprio questo di un po' di sdoganarla dal significato usuale che è legato proprio alla vita di gruppo, ma di farlo diventare un atteggiamento, un modo di vivere, una ricerca di contatto col centro nostro e col centro di tutte le cose. e questo proprio per il bene del mondo, perché il punto focale porta energia di volontà e di potere con la P maiuscola nel mondo. Altrimenti quelli che sono capaci di focalizzazione, ma magari in modo egoistico, in modo separativo, hanno successo nel mondo e portano le loro idee. e quelli che invece sarebbero più dedicati al bene comune se non sanno lavorare col centro e dal centro restano un po' impotenti. Grazie a tutti.